Sì, da dove può? Wow, wow. Quasi. Cosa. Quasi. Lassate l'esparzetto. sta giocando la sua strada come sento la presa giuro, giuro, guarda aspetta aspetta forza, 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 guarda vai, vai, vai tira il carico, forza duro sempre duro, guarda guarda, guarda durissimo, forza guarda, guarda vai, giuro duro duro grazie 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 grazie